e ciao a tutti farmer spero tutto bene in questa ema ho visto un sacco di macchinari veramente fantastici ma quali sono i tre macchinari che voglio portarmi a casa o mi sono appena portato a casa ne parliamo meglio in questo video dove te le faccio vedere e te le mostro non lo farò da solo infatti girerò con un amico giampietro utili quindi preparati e benvenuto in ema 2024 step obbligato in stand da dal degan per andare a vedere insieme gli atomizzatori andiamo a vedere tutta la linea ora chiedo al jan tre consigli tre cose da andare a vedere quando scelgo un atomizzatore dimmi tre cose da guardare quando vado a prendere un atomizzatore la tipologia atomizzatore basso volume normale poi in due parole a differenza è dei volumi necessari per coprire la pianta per cui lavorando a volumi normali abbiamo 100 a volumi a basso volume magari lavoriamo a 20 30 per dare un dato magari questo qua è un basso volume con 400 litri magari vado a coprire anche due ettari chiaro che non ha basso volume 400 litri magari faccio mezzo ettaro esatto dipende dal dalla copertura vegetale che dobbiamo trattare la scelta però la faccio sempre guardando quello che ho in campo cioè non è detto che vada sempre bene il basso volume no anche perché durante la stagione possono capitare situazioni di difesa in cui sarei un volume normale invece un basso volume per andare a bagnare molto bene la coltura seconda cosa a guardare che c'è un impianto di filtraggio che ormai appunto è uno standard minimo però che si è posizionato giusto in aspirazione in mandata in modo da non avere problemi di otturazione degli ugelli in fase di distribuzione altra cosa molto importante soprattutto per chi lavora su culture diverse è il lava impianto che anche lì è di base non lo fai vedere questo qua giusto? questo qua per cui andiamo a deviare l'aspirazione della cisterna principale da una cisterna separata di acqua pulita per andare a lavare la pompa e gli ugelli nel momento in cui non vogliamo avere una contaminazione incrociata di trattamenti tra culture diverse quindi facciamo l'esempio vado sulla vigna faccio un trattamento dopo devo andare a trattare il pero il ciliegio non deve aver problemi di incrociare i residui perché il cliente finale può chiedermi degli standard anche di residui massimo o molecole residue che non desidera. Terza cosa da guardare? è il controllo elettronico dei volumi che è una cosa che è un optional ma ormai è uno standard imprescindibile cioè in base alla velocità d'avanzamento io devo avere un controllo che una volta si dava con il regolatore di pressione devo avere un controllo elettronico che l'operatore di cui non deve preoccuparsi in modo che io do sempre lo stesso volume sulla pianta sulla cultura in maniera costante quindi anche la stessa concentrazione di prodotto sulla foglia quindi la difesa è omogenea lungo tuttora. Facciamo un esempio c'è un pezzo dove c'è un po più di fango vado un attimo più lento? Esattamente perché il trattore slitta io distribuisco sempre 300 200 volumi litri ettaro di soluzione e questo è importantissimo per avere una difesa efficace e funzionante. Altra caratteristica importante è la parte di lavi impianto in una cisterna che ci permette di lavare pompa, tubi e ugelli dopo aver finito la distribuzione della soluzione quindi lavar l'impianto nel momento in cui cambiamo cultura e non vogliamo un incrocio di residui tra una cultura e l'altra. Quindi diciamo selezionando con la leva vado a pescare non più il prodotto dalla cisterna ma dall'ave impianto e così pulisco velocemente in modo efficace. E' importante anche a fine stagione lavare la pompa per non lasciare esistiti di sali rameici nella pompa che potrebbero andare a corrodere e a limitarne la durata nel tempo. Un'altra caratteristica interessante e da guardare quando si compra una cisterna è anche l'accessibilità delle parti perché ad esempio in questo caso qui vediamo che la pompa è sotto la cisterna ed è accessibile per manutenzioni, per sostituzione parti, non devi smontare tutto il macchinario ma è accessibile con il smontaggio di pochi viti, si asporta la pompa e si fa la manutenzione anche a banco. Modellino interessante questo è, un modello proprio interessante. questo è il gioiellino che mi sono messo in casa, non è, no forse non c'è, no perché la mia è un pochino più piccola, perché se il tuo trattorino porta una bestia come questa è un pochino più piccola, però devo dirti, guarda, ne dicono di crotte e di crude, quando hai la portata comunque vanno perché comunque al consumo devo dirti niente male, sai che cosa ho dovuto imparare a settarla, quindi sollevatore, cioè qua devi stare attento su questi macchinari solo a due cose, prima di tutto i pattini, i pattini che metti in modo tale che hai una profondità di lavorazione ottimale, sollevamento che deve essere comunque libero in modo tale che non sente i colpi, deve essere settata giusta, dall'altra parte ho fatto un pochino più fatica all'inizio perché la tenevo in seconda posizione perché in base ai giri, usi rapporti diversi, devo dirti che con il terzo rapporto fa quasi uno sfarinato, ho fatto quasi la sbatte e ti dirò qualcosa di più, l'ho provato l'altro giorno in campo dove è bagnata la terra, ti dirò che lavorano meglio con la terra bagnata. I giri, il rapporto tra i giri alla presa di forza e la trasmissione alle vanghe va in base appunto al terreno, in che condizioni è, sei in tempra, bagnata, l'altra parte è in capire che terreno vuoi ottenere, che se devi ottenere un terreno abbastanza sfarinato la terra deve essere come dire sbattuta e farla fine, se devi metterla diciamo a riposo prima dell'inverno a poi fare più grossolana, che la terra si dice in Romagna si cuoce piano piano, prende acqua, esplode e poi vai a finarla durante l'inverno o la primavera per i trapianti per cui in base a quando devi rientrarci, a come devi prepararla, cambi i rapporti. Ma ti dirò qualcosa di più, con tutta l'acqua che è scesa il rischio veramente di asfessia radicale è veramente ampio, avere qualcosa comunque che va a tagliare la suola e comunque io lavoro in poco spazio, cioè anche per usare un ripuntatore avrei bisogno di una capezzagna molto lunga, selvatici, guarda, mi ha risolto un problema anche sotto serra, ottimale. Ma la vangatrice è interessante, come lavoro è interessante perché te lo va a dissodare senza rimescolarlo, è una lavorazione senza neanche pestare perché non hai bisogno di grossa potenza per cui costipamento del terreno, te lo vai a dissodare, te lo arrieggia, anche un terreno bagnato, te lo arrieggia e è interessante. È qualcosa quasi di arcaico. Eh, però è una lavorazione alla vecchia come si fa anche nell'orto che però in alcune situazioni può essere interessante anche, non dico sull'estensivo, su grandi estensioni, però fa la differenza. Sì, può essere interessante. E ora vi mostro una cosa veramente molto molto particolare, tra piantatrice per molto coltivatore, come funziona? La stanno ancora ottimizzando, non usa trazione, quindi non abbiamo la presa di forza attaccata e solo attraiono, va a bucare nel terreno e dopo abbiamo la nostra rischiera. Ragazzi, se questo modellino qua riescono a ottimizzarlo, bene, mi hanno detto che stanno facendo ancora una serie di prove per quanto riguarda anche il telo pacciavante. se riescono a metterla in azione, penso già a un 7,40, tra l'altro 7,80 e andrebbe ancora meglio, è la svolta. Questa macchina c'è da tenerla naturalmente molto molto osservata. Sarà molto importante a un certo punto riuscire a capire come andarla a settare, perché sarà particolare per andarla a settare bene. Però, guardate, la costruzione è ottima. Vediamo, vediamo. Questa qua è da osservare in modo molto 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 particolare. E quindi questi sono i tre macchinari che o mi sono portato già a casa come lavangatrice o vorrei portarmi a casa, magari nei prossimi mesi, molto interessante sia l'atomizzatore, anche lì dovrei incominciare a vedere meglio per lavorare sempre più facilmente e in modo migliore nel mio vigneto, sia comunque la trapiantatrice. Forse ancora un attimo giovane come progetto, ma secondo me uno dei progetti più interessanti, soprattutto perché è un'azienda agricola o è un appassionato proprio come me. E tu, quale prodotto vorresti portarti a casa? Quale macchinario secondo te è stato il migliore delle mie che comprerai? Scrivmelo qua sotto nei commenti. Farmer, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!